buongiorno a tutti allora 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 recuperiamo le due giornate del fantacalcio laghe che purtroppo non vi ho ancora fatto la ventiduesima perché dovevamo aspettare il recupero di udinese e roma perché abbiamo deciso così abbiamo deciso si aspetta il recupero di udinese e roma si mettono i voti e nonostante questo ma non dico nulla andiamo a vedere quali erano le sfide di questa di questa giornata la suppostim sfidava l'fc taceno forza inda sfidava la joao norris e la mia nerazzurro 68 sfidava la capolista forza juve andiamo a vedere com'è andata partendo da suppostim fc taceno la squadra del piangina scendeva in campo con scoruschi in porta di lorenzo acerbi calabria difesa ma calabria non ha giocato ed è stato sostituito direi così così da boateg quindi centrocampo con pulisic suslova rabbio e ciula cialanoglu in attacco luca cone zirze e belotti ha risposto scusate il mio raffreddore leppe cittaceno con bandas in porta baschi rotto gatti mia o e marusic in difesa centrocampo con gigione alberto colpani zambo anguissà e gurdunson in attacco al centrocampo scusate l'attacco composto da scamacone vlaovic e di balone di bala vediamo com'è andata suppostim scoruschi sei però non ha preso gol sette di lorenzo sei acerbi cinque e boateg cinque e mezzo per una media di cinque e mezzo e quindi 16,5 la difesa non c'è un gol non c'è un assist non c'è un giallo non c'è una beata valeria e tra l'altro due insufficienze su tre centrocampo piuttosto pulisic sei e mezzo suslo purtroppo solo cinque e mezzo rabiot cinque e mezzo c'è la noglu sette cinque e mezzo e cinque e mezzo fa undici undici e sei e mezzo diciassette e mezzo più sette fa ventiquattro e mezzo però c'è il giallo a suslo quindi 24 e il gol di ciula ciula c'è la noglu che quindi ti fa salire a 27 quindi il centrocampo del buon suppostim 27 attacco luca cone sette zirze cinque e mezzo belotti cinque e mezzo quindi media perfetta 6 6 per 3 18 più il gol di luca cone 21 ecco il motivo per cui il 6 politico non gli andava molto bene al buon piangino che infatti avendo buon luca cone che gli aveva fatto goal contro l'udinese capite che perdeva quattro punti giustamente fa e no non è giusto questi fermano la partita al settantacinquesimo settantesimo lui ha segnato non è giusto il 6 politico in ogni caso grazie a libidine il buon la buona suppostim raggiunge la ragguardevole cifra di 71 e mezzo quindi segna due cucuzze due gol vediamo a fc taceno bandas 6 però ha preso gol 5 maschirotto 6 e mezzo gatti 6 e 6 6 e 6 12 6 e mezzo 18 e mezzo però gatti mia ho preso il gian laus e quindi 6 e 18 e mezzo si scende a 18 media perfetta del 6 centrocampo gigione alberto 7 colpani 5 e mezzo zambo anguissa 5 e mezzo gudson 7 7 7 7 14 e 11 25 per abbiamo il gol di gudson e l'assist di gigione alberto da 25 si passa a 29 attacco della appunto f cittaceno scamacca 7 e mezzo blavic 5 di bala 6 e mezzo 6 e mezzo e 7 e mezzo fa 14 e 5 19 però abbiamo un gol di scamacca un assist di scamacca un assist di dibala quindi 19 5 24 per un totale beffardo come direbbe qualcuno beffardo di 76 quanto basta proprio in maniera precisa matematica proprio giusta giusta per fare tre reti e beffare il piangino che vede qui di allontanarsi il sogno scudetto e poi vedremo anche la classifica perché temo che si allontani neanche la possibilità di un terzo posto che comunque fa libidile vediamo invece com'è andata la sfida tra forza indo e la joao dorris siamo alla ventiduesima giornata stiamo recuperando la giornata in cui c'è stato il udinese roba bloccata per il valore avuto dal difensore della roma vediamo la sfida intanto tra forza indo e joao dorris forza indo è scesa in campo con carne secchi in porta cambiaso poch e teo hernandez in difesa bighi tarian barella loftucic e filippuccio anderson a centrocampo luca per i piri 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 lasciamo perdere luca barrio vici e pila ma un pilavoti in attacco ha risposto da joao dorris beret in porta bastoni ravani e bremer in difesa oden biranciuk kokbeiners e candreva a centrocampo carascheglia raffaele au e chiesa in attacco vediamo com'è andata forza indo carne secchi 5 ha preso due cucuzze 3 difesa cambiago cambiaso 6 poch 6 bighi e teo hernandez 6 tutti 6 belli tranquilli uno dice vabbè faccio 18 no perché cambiaso ha pensato bene di prendere un giallo quindi non posso fare non è successo niente perché un giallo l'hanno preso e quindi da 18 si scende a 17 e mezzo per forza inda la difesa centrocampo bighi tarian 6 barella 6 e mezzo loftucic 5 e mezzo filippe anderson 7 e mezzo 6 e 6 e mezzo 12 e mezzo 12 e mezzo e 5 e mezzo 18 18 e 7 e mezzo 25,5 però il buon filippuccio alderson ha fatto una bella doppiettina da libidine e quindi da 25,5 il buon forza inda sale a 31,5 attacco look ma vi lasciamo perdere 5 e mezzo io vi 6 e mezzo pino ma un 7 p da punti 7 6 e mezzo e 5 e mezzo 12 più 7 19 più gol di jovic 22 più gol di pina bonti 25 più giallo di pina bonti 24 e mezzo perché non è un più mai un meno mezzo punto in meno perché ha preso il giallo comunque 24 punti e mezzo anche l'attacco del buon forza inda per un totale di 76,5 quanto basta più mezzo punto si fa per dire per fare tre gol vediamo come ha risposto la joao torris meret 6 però ha preso due gol ha parato il rigore di quel somaro di sulle se non sbaglio e quindi 7 beret 7 bastoni ramani e bremer bastoni 6 ramani 4 bremer 6 e mezzo quindi totale della difesa del bond john orris 16,5 però ramani non solo ha preso 4 ha preso pure il giallo quindi 3 e mezzo e quindi si scende a 16 centrocampo o del 6 e mezzo mira 6 con mai non sei e mezzo che andrebbe a 5 e mezzo 5 e mezzo 6 e mezzo fa 12 12 6 18 18 e 6 e mezzo 24,5 purtroppo non c'è un assist dolcio gol dolcio giallo non c'è una beata francesca e 24,5 resta vediamo all'attacco carascheglia 6 e mezzo leao 7 chiesa 6 6 e 7 13 e 6 e mezzo 19 e mezzo più gol di leao 22,5 il buon joao norris anche lui fa il precisetti fa 71 punti tondi tondi quanto basta per fare due gol che non bastano perché ahimè forza inda vince 3 a 2 su joao norris veniamo all'ultima sfida che anche senza bisogno che si fermasse tutto il campionato era una partita già finita avrei avuto bisogno che angelino segnasse una doppietta per vincere sta gara quindi per me potevano già chiuderla prima però vi ho già spoilerato com'è andata comunque andiamo a vedere come sono scese in campo le due squadre derazzurro 68 è sceso in campo con somme rimporta di marco angelino e biraghi in difesa la biraghi ormai non gioca più perché lo tengono per le coppe ma è stato sostituito dal buon basket senza infamia e senza lode che mi dà sempre comunque dei risultati decenti ecco per intenderci il buon basket centrocampo con orsolini politano frattesi e zulkowski attacco turan gonzalez e sulle somaro 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 sulle in quella ventiduesima giornata ventiduesima che sarebbe la trentaduesima della serie a perché noi eravamo indietro di dieci giornate abbiamo iniziato tardissimo vediamo come vediamo come scese in campo forza giuvene shesley in porta bellanova danfres e danilo in difesa con anche banzini quindi con banzini quindi 4 3 3 centrocampo dek taler ederson e blasec attacco osi ben osi ben lasciamo perdere osi ben bel tram e gildiz o hildiz che dir si voglia vediamo com'è andata nera azzurro 68 somer 6 però ha preso due gol 4 difesa di marco 6 e mezzo angelino 6 e appunto basket 6 6 e 6 12 6 e mezzo 18 e mezzo non male però non c'è un giallo non c'è un assist non c'è un gol non c'è una beata in rica e 18 e mezzo resta centrocampo orsolini 6 e mezzo politano 7 frattesi 6 e mezzo zurkowski 5 6 e mezzo e 7 13 e mezzo 13 e mezzo e 6 e mezzo fa 20 25 fa 25 c'è il gol di politano si sale a 28 però c'è il giallo orsolini si scende a 27 e mezzo quindi il centrocampo 27 e mezzo attacco turam 7 gozale 6 sulle 6 però turam fatto gol sulle sbagliato il rigore uno e lì dell'altro quindi 6 6 12 e 7 19 se preferite 10 più 6 16 più 3 19 cambia poco l'errore dal dischetto di sulle b cancella completamente il gol di turam quindi tutto inutile sto somaro somaro sulle quando tocca tocca ragazzi se sbagli il rigore ti devo dare del somaro se segni il rigore ti dico bravo si chiama a constatare bastava che il somaro non sbagliasse il rigore io questa partita non la perdevo che che ne dica il signor piangina della suppostime io constato negare non mi metto a piangere perché non c'avevo questo e ma perché per forza se spendi fai le aste appena su uno superi 30 scappi poi ti prendi i giocatori dalla carlona perché devi assolutamente avere quel giocatore lì che poi non puoi prendere perché costa troppo e questi sono i risultati che poi vai a prendere dei giocatori che stanno in panchina e non giocano mai e infatti al mercato di riparazione è dovuto fare la rivoluzione e che ho anche lasciato belotti perché eri disperato vediamo alla forza giuva cesni sei e mezzo però porta inviolata sette e mezzo bellanova sei danfri sei danilo sei mancini sei proprio il giusto non c'è un gol non c'è un assist non c'è un giallo sei a tutti media perfetta 24 centrocampo de che taler sei e mezzo ederson sette blasi sei sei e sei e mezzo dodici e mezzo e sette diciannove e mezzo più il gol di ederson ventidue virgola cinque attacco così ben sei bel tram cinque e mezzo il dix sei dici a sette e mezzo più i tre per punti estra per il gol di osimena osimena gran figone d'oro 20 virgola no 20 virgola cinque per un totale di 74,5 che basta per fare tranquillamente due gol e vincere 21 se il somaro di sulle anziché prendere tre segnava al rigore anziché tre avevo sette punti in più magari arrivavo anche a 76 e andavo a vincere tre a due basta poco io constato le partite altri guardano è mi manca questo mi manca quello quello non ha giocato quello su io guardo le partite sono prendere la traversa posso incazzarmi sì è mio diritto se uno sbaglia un gol a porta vuota posso incazzarmi sì è mio diritto ma non sto a piangere perché no vi manca questo e non hanno fatto giocare biraghi e non hanno fatto giocare di marco giocano altri perché la mia squadra giocano tutti infatti impazzisco per scegliere i giocatori da mettere in campo perché giocano tutti poi fanno cagare è un altro discorso c'è sbagliato i rigori quando non lo fanno la squadra funziona è andata così ma andiamo alla classifica o meraviglia o perché adesso se si è rivoluzionato tutto anche se il buon forza giuve che è clamorosamente primo tra l'altro con meno punti di tutti c'è una buona difesa segna poco ma prende pochi gol e soprattutto ha sfruttato la fuga iniziale ma andiamo a vedere la classifica ah già non posso farvi vedere la classifica perché se è la classe sarebbe la classifica della 22esima giornata dovrei tornare indietro non l'ho fatta vi do solo i risultati perché tanto il prossimo video sarà quello del recupero della 24esima anche della 24esima giornata che si è appena conclusa così vi do anche la classifica una giornatissima a quattro giornate dalla fine ciao